oggi siamo a povegliano veronese madonna dell'uva secca e siamo qui stiamo facendo il 20 maggio 2009 e stiamo facendo la propria penetrometrica dinamica stiamo attraversando della sabbia limosa questo è il penetrometro abbiamo il paesaggio e allora vediamo il funzionamento del penetrometro la panda si aggira intorno ai 4 metri